Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata ho costruito e decorato il nuovo ingresso del Nether, rappresentato dal teschio di un drago. Questa settimana torneremo a fare un meccanismo di redstone che sono sicuro vi piacerà, quindi continuate a seguire il video. Prima però, come sempre, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale e soprattutto di passare anche dal mio canale live su Twitch. Trovate il link in descrizione e le live sono tutti mercoledì, venerdì e domenica a partire dalle 20.30. Venerdì in live, oltre ad aver partecipato all'evento che ho fatto sul mio server Minecraft dei sub, se volete saperne di più venite a trovarmi in live. Ho anche proseguito un pochino i lavori del nostro acquario e finalmente ho iniziato ad aggiungere l'acqua. Ecco qua ragazzi, per il momento ci sono dentro queste kelp che ho posizionato per poter ottenere tutto quanto un blocco d'acqua per tutto lo spazio. Siamo arrivati più o meno a metà, sto aspettando che crescano le kelp e sto lavorando anche alla seconda parte. Qui questa concrete deve ancora indurirsi e quindi diventare di questo colore. Il resto più o meno è rimasto invariato. Oggi però ragazzi volevo concentrarmi sull'ingresso di questo acquario, creando qualcosa di particolare, ossia un bel meccanismo di redstone. Infatti vorrei fare una porta ad acqua. Dato che qui stiamo costruendo un acquario, secondo me una porta ad acqua con questo meccanismo particolare, si adatta perfettamente al tema che stiamo sviluppando. Come funziona una porta ad acqua? Beh, quando sarà chiusa andrà a creare una barriera di acqua che arriva dall'alto. E qui in mezzo, dove adesso andremo a fare il nostro meccanismo, quindi in questo punto, ci sarà praticamente un blocco in meno come sto facendo adesso. Pertanto i mob quando arriveranno qui verranno spinti dalla corrente che arriva verso l'alto in questo buco e teoricamente non dovrebbero poter uscire e quindi entrare nell'acquario e fare danni. Mentre per quanto riguarda il giocatore, beh, ne ti impedisce di passare attraverso il muro d'acqua. Però ragazzi vedrete, è davvero molto particolare e anche molto carina da vedere. Anche perché ragazzi questa porta è davvero velocissima e si apre all'istante. A chiudersi ci mette un pochino di più perché deve crearsi questa piccola cascata di acqua. Adesso vado a creare lo spazio e non sarà poco per mettere il meccanismo e poi ovviamente andremo a nascondere tutto quanto. Ok, ho iniziato a fare lo scavo, probabilmente ci servirà ancora più spazio perché la porta, diciamo, la costruzione occupa abbastanza, però poi si vedrà solamente la parte centrale. Ora andiamo a posizionare dei pistoni che serviranno per togliere istantaneamente l'acqua quando vorremmo aprire la porta e permetteranno anche all'acqua di rientrare per poterla chiudere. Allora, la porta sostanzialmente avrà una cornice di questo tipo, quindi la facciamo con la cobblestone. Qua tre, qua tre, qua tre e qua ne mettiamo altri tre. Naturalmente poi potremo cambiare il materiale. E ora andiamo a posizionare degli altri pistoni qua, così, e altri pistoni li andiamo a mettere qua, uno, due, tre. E poi dobbiamo mettere un'altra fila di pistoni qua in alto, quindi andiamo a posizionarli qua sopra, sempre a un blocco di distanza come quelli sotto. Uno, due e tre. Et voilà, e abbiamo messo i primi pistoni. In corrispondenza dei blocchi di redstone che abbiamo messo prima andiamo a posizionare delle slab. Allora facciamo così, mettiamo un blocco normale, una slab sotto, così, perfetto. Poi andiamo a togliere questo blocco e lo andiamo a posizionare qua. Poi ci serve altro spazio perché dobbiamo andare a mettere della redstone qua sopra, quindi facciamo così, quindi redstone, redstone, e qua una torcia, quindi ne faccio già due perché devo fare questa cosa dall'altra parte identica e quindi metto questa. Poi vado di qua, andiamo a rompere tutto quanto, così, ok, sotto e qua a fianco. Mettiamo il blocco intero, poi il mezzo blocco qua, così, blocco intero qua, togliamo questo, andiamo a togliere la terra qui, mettiamo la torcia di redstone e qua andiamo a mettere della redstone, così. In corrispondenza qua dove abbiamo posizionato la torcia andiamo a mettere due blocchi di cobblestone, qui mettiamo della redstone e qui un repeater con due tick di ritardo. Poi andiamo a posizionare un altro blocco di cobblestone qui e un altro qua sotto, questa volta con sopra della redstone in questa maniera. E riproduciamo questa cosa anche dall'altra parte, quindi andiamo qua, allarghiamo ovviamente un pochino tutta la parte dove dobbiamo costruire, qua togliamo questi blocchi, togliamo la terra, voilà. Recuperiamo quindi questo blocco qua, facciamo così, tac, due tick di ritardo, poi un blocco qua, un blocco qua e della redstone qua. Qui adesso posso anche togliere ma poi potremo andare a riempire nuovamente. È giusto per farvi vedere meglio da lontano come stiamo lavorando. Vi faccio anche vedere che se andiamo ad azionare questa leva, vedete cosa succede? Queste praticamente parti della porta si aprono e si chiudono velocemente, guardate, vedete? Perfetto. E questo permetterà alla nostra porta di aprire o meglio di far uscire l'acqua oppure di toglierla. Ora da una di queste due parti è indifferente, io lo faccio qui a destra, dobbiamo scavare così in modo da poter raggiungere questi pistoni che ancora non hanno nessun segnale. Allora andiamo a mettere quindi un pistone appiccicoso qua, rivolto verso il basso, poi un blocco di redstone che adesso vado a fare, ok? Lo posizioniamo qua sotto, così, perfetto. Poi qua andiamo a mettere un altro blocco, aspettate che qua devo scavare ancora un attimino, così abbiamo lo spazio sufficiente per tutto quanto, ok? Andiamo a mettere un blocco di cobblestone qua, poi andiamo a metterne un altro qui, poi qui facciamo un blocco qua sopra, uno lo mettiamo qua sotto e un altro lo mettiamo qua sopra. E qua andiamo a fare in questa maniera, mettiamo della redstone, così, poi un repeater e dell'altra redstone qua. Allora adesso mi sono intrappolato qua dentro, vediamo di uscire, perfetto. E anche qua abbiamo il circuito per azionare gli ultimi pistoni. Ora se andiamo ad azionare la nostra leva, questo è quello che succede, vedete? Ecco, una cosa importante, se avete questa situazione in cui questi blocchi sono in alto e questi in basso, dovete semplicemente andare a togliere questi tre e a metterli qua in basso attaccati ai pistoni appiccicosi in modo da resettare il circuito. Vedete? Così abbiamo una situazione e questa è l'altra situazione, vedete? Con praticamente la porta che sarà aperta quando potremo passare, mentre in quest'altra situazione la porta sarà chiusa. E ora dobbiamo andare a posizionare sostanzialmente l'acqua che andrà a coprire, o meglio, a chiudere la nostra porta. E ora ragazzi è giunto il momento di mettere l'acqua. Dobbiamo posizionare del vetro o qualunque altro blocco, io metto del vetro per mostrare dove deve andare l'acqua e qua dobbiamo metterne un secchio. Attenzione che qua sotto ci deve essere questo blocco che è più basso, altrimenti l'acqua va dappertutto. In questa maniera dovrebbe succedere che qua vediamo una colonna d'acqua da questa parte e la stessa cosa la facciamo dall'altra. Quindi andiamo qua, aspettate che forse è meglio che salgo così. Ok, andiamo qui, perfetto, andiamo a rompere un po' qua la terra, così abbiamo lo spazio per mettere il nostro blocco qua per l'acqua. Ok, allora abbiamo detto mettiamo un blocco qua di vetro, poi uno lo mettiamo qua al posto di questo, questo lo togliamo, mettiamo del vetro qua, qua e poi andiamo ad aggiungere l'acqua qua all'interno di questo buco. Allora andiamo a fare così, tac, e mettiamo la nostra acqua. Perfetto! A questo punto abbiamo le due colonne ragazzi di acqua. Cosa dobbiamo fare adesso? Semplicemente andiamo ad azionare il nostro meccanismo. Ovviamente la porta non è chiusa completamente, ma se facciamo così l'acqua sparisce e come vedete rimane all'interno di queste specie di taniche che abbiamo lasciato. Ma se la andiamo a riamprire, guardate la magia, boom, l'acqua scende a cascata e abbiamo completato il nostro ingresso. Wow, 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 ma ragazzi bellissimo! Qua possiamo andare così e possiamo comunque passare attraverso la nostra porta. allora io qua andrei a chiudere, direi completamente sì, tanto voglio dire al limite andiamo a rompere se dovreste servirci ancora, oh oh oh, aspettate, dovesse servirci ancora dello spazio o per andare a modificare qualcosa. Qua praticamente è già tutto chiuso, quindi va bene così. Poi di qua non abbiamo fatto neanche il circuito, quindi possiamo tranquillamente chiudere con la terra così e qua andiamo ovviamente a tappare davanti. Adesso con la terra poi decideremo bene che cosa utilizzare quando andremo a decorare questa parte ovviamente di mondo. Allora ragazzi, per dare un attimino una decorazione alla zona ho voluto aggiungere vegetazione e far sembrare l'ingresso come se fosse una spaccatura all'interno della roccia. Secondo me questa cosa si accompagna bene con il tema che stiamo utilizzando all'interno dell'acquario, ossia quello di utilizzare tutta quanta la pietra per decorare le pareti dell'acquario. Però questa cosa voglio in ogni caso discuterla bene con tutti quelli che interverranno in live per vedere quale sarà la soluzione migliore. E dunque ragazzi siamo giunti al termine di questo episodio, spero che questo circuito di redstone un pochino particolare vi sia piaciuto. Sicuramente non siamo andati a creare una porta sicura al 100% perché i player possono passare e anche i mob in certe condizioni lo possono fare. Però abbiamo fatto una decorazione davvero molto interessante. Mi raccomando come ho detto all'inizio di passare anche dal mio canale live su Twitch, come vi ho detto link in descrizione e live ogni mercoledì, venerdì e domenica a partire dalle 20.30. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio! Ciao a tutti! Ciao a tutti!